Ho quello che volevi. Sei giusto in tempo. Hai trovato Vauz? Io... ho il suo borsello di semi. Prego, sia l'ultimo da seppellire. Ma ora preparo le armi. Speriamo che basti. Dovrà bastare. State tutti al riparo finché non darò il segnale. Ootaru, perito di umriale! Chi aiutò io? Chi aiuta? Chi aiuta? Chi aiuta? Chi aiuta? Chi aiuta? Grazie a tutti. 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 Devo dire che quei giovani ci hanno saputo fare, ma la vittoria la dobbiamo a te, cacciatrice. Non è stato merito delle mie armi o delle strategie, Q. Io ho procurato i pezzi. Comunque, voglio darti questo. È stato utile per noi. Lo sarà anche per te. Ne avrò cura. Attentalo, attentalo, attento la fuori.